Nell'esercizio di questo video si chiede di calcolare se esiste il seguente limite, ovvero il limite per n che tende a più infinito della quantità seno di 3π su n. Quindi vediamo qual deve essere l'idea, o l'intuizione. Beh, l'idea è che la quantità, diciamo, 3π su n, che è quella che sta all'argomento del seno, quando n tende a più infinito, a quanto tende? Tende a 0. E è 3π diviso un numero che diventa sempre più grande, quindi tende a 0. E quindi, poiché la funzione, diciamo, seno di x è una funzione bella, è continua, è tutto, quello che ci aspettiamo è che se 3π su n tende a 0 quando n tende a più infinito, allora il seno di 3π su n, a cosa tenderà? Tenderà, quando n tende a più infinito, al seno di 0. E il seno di 0 quanto fa? Fa proprio 0. Quindi ci aspettiamo che l'intesi è 0. Come facciamo a dimostrarlo? Per dimostrarlo dobbiamo, diciamo, ricordare una disuguaglianza elementare, ma in questo caso essenziale, facciamo un ricollo, che è la seguente, che per ogni x appartenente ad r vale che il modulo di seno di x è sempre minore o uguale di modulo di x. Geometricamente cosa vuol dire? Abbiamo il nostro piano cartesiano, diciamo, questo è l'asso delle x, questo è l'asso delle y, questa qui sarà all'incirca la funzione seno di x, adesso disegno senza proporzioni, mentre la funzione x, cioè y uguale a questa qui, attenzione, questa qui è seno di x, non modulo di seno di x, mentre questa qui, la bisettrice, è la retta y uguale ad x, non modulo di x. Comunque, fatto sta che per x positive, come potete vedere, la funzione seno di x sta sempre sotto la semiretta, questa semiretta qui. Per x negative, la funzione seno di x sta sempre sopra questa semiretta qui e questa, diciamo, queste due condizioni si traducono proprio in modulo di seno di x minore o uguale di modulo di x. E quindi con questa diseguaglianza praticamente abbiamo concluso, perché? Perché noi vogliamo calcolare il limite di seno di 3π su n. Facciamo così, calcoliamo il limite, calcoliamo il modulo di seno di 3π su n. Questo qui sappiamo che la diseguaglianza di sopra è sempre minore o uguale del modulo di 3π su n. Ma siccome 3π su n è sempre positivo, possiamo togliere il modulo. Quindi è 3π diviso n. E quindi adesso cosa abbiamo? Che possiamo usare il teorema dei tre carabinieri, perché il modulo di una quantità è sempre positivo e quindi quello che abbiamo è che il limite per n che tende, applichiamo il limite a tutte queste diseguaglianze, no? Il limite per n tende a più infinito di 0, che fa proprio 0 perché non dipende da n, è sempre minore o uguale del limite per n che tende a più infinito di modulo di seno di 3π su n, che è sempre minore o uguale del limite per n che tende a più infinito di 3π su n. Ma 3π su n abbiamo detto che fa 0 quando n tende a più infinito. Da cui concludiamo che questo limite qua è sempre minore o uguale di 0, maggiore o uguale di 0 e quindi concludiamo che il limite per n che tende a più infinito di modulo di seno di 3π su n è uguale a 0. Attenzione che questa non è la nostra conclusione perché noi vogliamo calcolare il limite soltanto di seno di 3π su n senza il modulo, non vogliamo fare il limite di modulo di seno di 3π su n. Ma adesso abbiamo comunque concluso perché se sappiamo che il modulo di una successione tende a 0 allora automaticamente quella successione deve tendere a 0. Questo è piuttosto evidente, come si giustifica? Quindi facciamo un recall. Si giustifica in seguente modo che per ogni numero, diciamo per ogni numero A, per definizione di modulo, ogni numero reale è sempre compreso tra più il suo modulo, quindi più modulo di A e meno il suo modulo. Quindi se abbiamo una successione di numeri, chiamiamola A con n, una successione sempre minore o uguale del modulo di A con n e sempre maggiore o uguale di meno modulo di A con n. Quindi in particolare se sappiamo che il modulo di A con n tende a 0, di nuovo usiamo il teorema dei carabinieri. Abbiamo che più modulo di A con n tende a 0, meno modulo di A con n chiaramente tenderà a 0, quindi al teorema dei tre carabinieri anche A con n tenderà a 0. Quindi noi abbiamo dimostrato che il modulo di seno di tre pi greco su n tende a 0 e quindi possiamo concludere che il limite per n che tende a più infinito di seno di tre pi greco su n è uguale a 0, che era proprio quello che ci aspettavamo e con questo abbiamo concluso l'esercizio. Grazie.